Salve signori, buon pomeriggio, io sono stato contento di aver finito gli esami a scuola, io invece vi volete rivedere il tunnel Come no, lo faccio rivedere subito, adesso io lo vedo comparire di nuovo che dovrete nella sinistra, ecco, lo vediamo là in fondo Eccolo E' davvero bello, e qui mi risulta in buono stato questa galleria, illuminata perfettamente Ecco, la vedo sempre imbiancata, sempre rivista, bisogna sempre proseguire Perché due mesi fa era stato bello entrare nel tunnel, che mi piace un po' perché ci faceva tanto E' una cosa favolosa Vedere il tunnel è davvero... Ehm... 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 Non lo so... Ehm... Vabbè... Stare nel tunnel è bellissimo e... Le segnaletiche sono sempre sono accese e... E qui l'aveva perso il fine della sacchetta e l'ha stato chiuso il 13 perché sarebbe infichato un incendio E qui è tutto bello imbiancato E ogni tanto si dovrebbe risanarla di nuovo qualche giorno fa Siamo nella galleria giorno del 23esimo Ehm... Giornata... Di... 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 è il tunnel che prenderemo verso piena da sacchetti che io sono sempre qui a Roma e dal 13 intanto se la verificano un incendio perché l'autobus intanto ci stiamo per entrare di nuovo è così ancora sempre così sempre illuminato sempre bianco le pareti e tutto mi fa divertire un sacco stare nel tunnel intanto filtrazioni d'acqua sempre non ci sono e qui vedo un tamponamento fa sapare attenzione ecco a volte succedono i tamponamenti e poi vi dico il 3 marzo era stato bello vedere il tratto bello ristrutturato in galleria bisogna ancora proseguire perché già è stata aperta la galleria perché dal 13 era chiusa sinistra non stavo a dire sinistra tenere la sinistra lo scoprirete tra poco che cosa era successo prima non lo ricordi ecco vedete tra poco già vedo c'è stato un incendio qui è stato rifatto l'asfalto poi è tutto bello ristrutturato e si prosegue sempre che c'è stato un incendio e poi è stato risolto il problema dell'incendio siamo sempre qui dentro nella galleria del 23 i pannelli sono sempre inquadrati belli intatti sì ma a volte spesso dovranno essere disannata ancora una volta per quel qualche anno intanto siamo di volta al termine della galleria verso piena sacchetti anzi siamo quasi a piena sacchetti ora tra poco ora siamo per in bocca piena sacchetti adesso e grazie di tutto per aver rivisto il tunnel ciao 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 ciao